Secondo una stima dei consulenti della procura di Pescara ci sono almeno 100.000 metri cubi di rifiuti inquinanti, tra cui vanadio, rame, piombo, zinco, beriglio, selenio, ferro e manganese, nel sito industriale ex Montecatini di Piano d'Orta, nel comune di Bolognano, attivo fino alla metà degli anni 60. Rifiuti che si estendono, secondo i dati certi a disposizione, su un'area di 26.000 metri quadrati, compresa all'interno del sito di interesse nazionale di bussi. Dal 2007 ad oggi, denunciano in un esposto il Movimento 5 Stelle e l'avvocato Isidoro Malandra, non è stato fatto nulla, o quasi, nemmeno per la messa in sicurezza della zona, per legge prevista entro 60 giorni. Se per la discarica tra i monti di bussi qualcosa si è mosso, il sito di Piano d'Orta, complessivamente di 11 ettari, è rimasto nell'oblio, o quasi, se non fosse per una bozza di messa in sicurezza bocciata dal Ministero dell'Ambiente e per la richiesta di quest'ultimo di una caratterizzazione dei rifiuti sul sito. A Piano d'Orta è tutto fermo, praticamente, quindi con un ritardo di anni è stato diffidato il responsabile dell'inquinamento, con un ritardo di anni è stato diffidato il proprietario delle aree per la messa in sicurezza di quelle aree, che non sono state assolutamente fatte. A distanza di 10 anni, a Piano d'Orta non c'è una misura di sicurezza che sia stata attuata. Il sito era molto più esteso, quindi è almeno quattro volte l'area SIN. Anche quelle aree, probabilmente, lo dice il Ministero, anche quelle aree probabilmente sono interessate dall'inquinamento. Quello dei pentastellati è il terzo esposto complessivo sulla questione bussi, con il quale si chiede alla magistratura di fare luce e chiarezza sulle inerzie di questi anni per il sito di Bolognano. Il primo esposto ha riguardato l'inquinamento persistente, il secondo l'appalto per la bonifica del commissario Goio. I grillini chiedono che a pagare le spese della bonifica e della messa in sicurezza non siano, come al solito, i soldi pubblici dei cittadini. Noi crediamo che debba essere sempre affermato il principio fondamentale di chi inquina paga, per cui chiediamo e speriamo che il Governo regionale e il Ministero si adoperino affinché chi è responsabile dell'inquinamento affronti tutte le spese di bonifica.